A me si è alla finale ragazzi zero quattro Massimo Chiarioni, Samuele Spadetto Bogdan Kovacevic, Matteo Bianchi Filippo Balbinot Zambito Marsala Stefano Zetowski, Simone Paolone, ultimo tempo 28 e 98 Intanto Samy Benomar 24 e 76 per fare sua questa terza batteria già pronti per la quarta L'Urve, Rocco, Grandene Biasi